Fare questo video sarà molto difficile, molto. Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per parlare del finale di Loki e io ve lo dico subito, per me no. Come ogni volta che esprimo un parere controcorrente vi invito a non insultarmi innanzitutto perché verrete cancellati senza pietà e ad esprimere il vostro parere in modo sano, costruttivo e da persone semi-adulte, semi-pensanti. Vi do un parere sommario su questa puntata e poi andiamo a parlare di tutte le cose che non mi hanno convinta per niente. Tutto sommato la puntata mi è piaciocchiata, è stata assolutamente godibile da vedere e le cose che accadono, nello specifico la grande cosa che accade, quindi la creazione, se così si può dire, del multiverso è una cosa che trovo fighissima, che mi è piaciuta tantissimo, ma come la maggior parte delle cose in questa serie se l'idea mi piace, la realizzazione mi piace molto meno. Innanzitutto voglio fare un mea colpa perché più volte mi è stato detto che colui che era dietro a tutto sarebbe stato Kang e io dicevo di no, un po' perché ormai non mi aspettavo più granché dalle rivelazioni di queste serie tv un po' perché mi sembrava strano che introducessero quello che sarà il cattivo di Ant-Man in questa serie tv soprattutto non avendolo introdotto prima e quindi introducendolo nel finale. C'è stato nello specifico un commento di uno di voi nell'ultimo video che però è stato cancellato quindi non dirò il nome della persona che lo ha fatto perché magari non vuole essere nominata comunque che mi diceva che secondo lui ci sarebbe stato Kang sul finale io dicevo che secondo me non sarebbe stato possibile per le questioni che vi ho appena detto quindi ti chiedo scusa, chiedo scusa a tutti voi perché avevate ragione ma detto questo come l'hanno fatto comunque non mi è piaciuto ma andiamo a vedere che cosa mi ha fatto dire no. Allora innanzitutto voglio dire che mi sento una pazza perché ovunque nel mondo dell'internet vedo solo entusiasmo entusiasmo per Kang, entusiasmo per i multiversi, entusiasmo per il futuro dell'MCU e per carità queste cose entusiasmano un po' anche me ma il tutto è soffocato dalla marea di domande, di incongruenze, di buchi, di trama che questa serie ha creato e che non mi hanno fatta godere la realizzazione di queste idee effettivamente buone quindi o io sono diventata una rompipalle e una pazza scriteriata oppure la maggior parte della gente si fa scendere anche le cose scritte con il culo purché siano ben condite con un po' di salsa barbecue perché sicuramente hanno dato ai fan quello che volevano sicuramente ci hanno dato cose fighissime ma dire che le hanno realizzate bene secondo me è mettersi i prosciutti davanti agli occhi ma andiamo a vedere nello specifico di che cosa sto parlando perché sono passati 4 minuti e ancora non ho detto niente allora innanzitutto avevo preso la spiegazione sul multiverso effettivamente Kang, che ormai abbiamo capito che è lui che c'era dietro e tutto ha ordinato i multiversi preesistenti e questo spiega le varie varianti di occhi di diverso tipo quindi anche il occhi alligatore ad esempio e direi di iniziare da qui quindi dalle basi dalla spiegazione generale che ci hanno dato su tutto che secondo me risulta poco chiara tant'è che nel mondo dell'internet quando leggo discussioni in merito c'è molta confusione su che cosa sia effettivamente accaduto anche alla luce di quest'ultimo episodio ad esempio i multiversi derivano dagli eventi Nexus o ci sono sempre stati? esistono ad esempio tante versioni della Terra come sembra dalla spiegazione di Kang oppure ogni azione diversa crea un multiverso oppure ancora un mix delle due quindi c'erano i multiversi sono stati appiattiti riordinati in questa sacra linea temporale in questo filo ordinato di cose e poi gli eventi Nexus ricreano i multiversi da capo o è un serpente che si mangia la coda e questo è tutto un grandissimo loop temporale quest'ultima teoria è avallata dalla frase che dice Kang prima di morire cioè dicendo che lui ritornerà in una reincarnazione quindi possiamo presupporre che Sylvie uccidendo Kang e creando il multiverso ricondurrà le cose a come sono avvenute nel passato di Kang e quindi poi lui tornerà a riordinare tutto tornando poi al punto da dove siamo partiti non so se mi sono spiegata quindi è tutto un cerchio tra l'altro qui si parla di fine dei tempi ma quindi il breaking point sarebbe questo? è l'inizio e la fine di questo loop temporale? si inizia con i multiversi da qui per poi tornare di nuovo qui dopo che Kang avrà messo ordine al caos? e tra l'altro lui non dovrebbe essere fuori dal tempo ormai? com'è possibile che ci sia un punto oltre il quale lui non può più vedere non può più comandare e controllare? che cosa vuol dire? cioè me lo devi spiegare? non puoi buttarmi lì che fino a un secondo prima poteva predire anche il minimo sbadiglio di Loki e un secondo dopo non sa più niente mi devi spiegare il perché che cosa vuol dire che non può più vedere oltre? com'è successo? perché? non è chiaro tra l'altro Kang ci dice che Sylvie e Loki sono arrivati lì perché lui voleva così e questa è una cosa che avevamo ipotizzato nelle prime puntate cioè che tutto quello che stava accadendo ai due protagonisti fosse in realtà previsto per portarli da qualche parte ok questo ci può stare ma il motivo per cui Kang li ha scelti se voi l'avete capito qual è il motivo per cui un tipo che vuole l'ordine e non vuole ritornare al caos scelga due dei universalmente conosciuti per essere l'incarnazione del caos per controllare tutto non ha senso tutto ciò cioè perché scegliere loro? volevi allora a quel punto far ricominciare tutto da capo? era quello il tuo obiettivo fin dall'inizio? e allora perché non farti uccidere subito? ma di che cosa stiamo parlando? che cosa sta succedendo? e poi la messa in scena ragazzi basta gli spiegoni santo cielo sono sei puntate che non facciamo altro che vedere i protagonisti seduti ovunque manco soffrissero di narcolessia cioè seduti sulle rocce seduti nella TVA seduti qui nel palazzo di Kang seduti sulla mentis sempre seduti solo seduti loro possono stare non c'è azione niente solo seduti solo spiegoni dalla prima all'ultima puntata ma vi sembra normale? per non parlare di Loki io non voglio parlare di Loki perché altrimenti mi viene da piangere se io ripenso al primo Thor al Loki che c'era nel primo Thor io non dico che voglio quella versione lì quella versione più cattiva che buona mi sta bene il Loki buono e un po' pazzerello per carità ma ragazzi questo non è Loki è l'ombra di se stesso non ha fatto altro per tutta la puntata che piagnucolare balbettare cazzate ma che cosa sto vedendo? anche Silvi onestamente posso capire che cosa la spinga lei si è ritrovata davanti l'uomo che le ha rovinato la vita e ha voluto ucciderlo ok ma il tutto come è messo in scena è davvero cringe e ultima cosa prima di passare poi alla scena finale è Kang ok siamo tutti contenti che c'è Kang che le teorie folli che avevamo in testa si siano realizzate tutto bello ma ragazzi chi cazzo è Kang? cioè noi siamo qui a farci le seghe sulla serie da un mese e mezzo ma la gente normale quella che ha altro da fare nella vita che non sta tutti i giorni a vedere video su youtube sul marvel cinematic universe non lo sa chi è Kang e di certo non lo sa dopo questa puntata immaginate la scena tizio a caso che vede questa puntata non sa nulla dei fumetti non sa nulla di Kang tizio che potevo essere benissimo io se non avessi avuto un canale probabilmente vede questa puntata e si ritrova davanti un tipo che non ha mai visto che neanche si presenta e dice di controllare tutto così debotto senza senso la mia domanda a quel punto sarebbe ma chi cazzo sei? ma perché mi dovrebbe interessare di te? chi sei? non è stato presentato in nessun momento dall'inizio della prima puntata quindi perché dovrebbe importarmi qualcosa di questa grande rivelazione? per lo spettatore normale questa non è una grande rivelazione è un A e quindi chi è? è una rivelazione chiaramente fatta per i fan e solo per i fan e questo è sbagliatissimo tra l'altro non voglio parlare del fatto che lui voglia lasciare il tutto il potere in mano alle due versioni di Loki perché? perché? perché si è stancato perché è vecchio ma in che senso? fai due palle così su quanto sia importante mantenere l'ordine su quanto può essere devastante la creazione del multiverso e invece di continuare a governare tutto tu come hai sempre fatto in modo efficiente e rigoroso decidi di lasciare tutto in mano a due idioti benissimo ultimissima cosa prima di passare al finale lo so che l'avevo già detto prima ma mi è tornato in mente adesso Ravonna la titante ragazzi cioè Ravonna come visione in WandaVision che è sparita così nel verso l'infinito e oltre dove cazzo è andata? ho capito che hanno lasciato il finale aperto ho capito che ci sarà una seconda stagione che esploreranno questa cosa ma la sua trama si è moncata così diretto ok va bene sicuramente questo è proprio cercare il pelo nell'uovo e non è questo il problema della puntata né della serie state tranquilli passiamo al finale finale che anche qui ha dato adito alle spiegazioni più baiopinte segno che è stato scritto con il culo ciò che ho capito io è che Loki rispedito a casa rispedita dal mittente da Sylvie in realtà sia stato rispedito in una TVA diversa in un altro universo dove non ci sono i time keepers a governare tutto ma c'è appunto Kang Mobius non lo conosce quindi è proprio un'altra realtà questo è quello che ho capito io allora la prima domanda è perché c'è Kang e non ci sono i time keepers cioè o i time keepers servono oppure non servono a un cazzo quindi delle due una la spiegazione che mi sono data io del perché abbiano creato i time keepers nella nostra linea temporale diciamo per semplificare le cose è che gli serviva qualcuno quindi un'entità quasi divina per assoggettare i membri della TVA quindi creare una sorta di culto al quale rivolgersi ok se questa era l'esigenza questa esigenza c'è anche in un altro universo o sbaglio no nell'altro universo Kang poteva tranquillamente dire sono io a capo di tutto ok va bene ma questo non è neanche il problema peggiore il problema peggiore è che in teoria fin dalla prima puntata ci hanno detto che la TVA è fuori dal tempo questo presuppone che ce ne sia una per tutte le linee temporali per tutti gli universi e invece a quanto pare manco per il cazzo quindi anche quella era una balla era una balla oppure è un buco di trama perché anche qui sicuramente i più ottimisti di voi diranno che era una bugia che ci hanno raccontato per me è un buco di trama come ce ne sono tanti altri tra l'altro anche la questione del rapporto tra Silvia e Loki e dell'amore mi è scaduta tantissimo perché poteva essere una cosa carina una cosa figa in realtà è servita solo a far diventare il nostro Loki un rincoglionito e a far fare casini a lei quindi va bene non mi sono scritta un copione quindi non so se ci sono altre cose queste sono sicuramente quelle più grandi quelle che ho notato e che mi hanno dato molto fastidio mi hanno rovinato l'esperienza non dico che la puntata non mi sia piaciuta non dico che non me la sia goduta non dico che non sono contenta per i molti versi perché sono super contenta per i molti versi ma la modalità in cui tutto ciò è stato raccontato ragazzi non è assolutamente di mio gradimento ora consapevole di essere andata contro chiunque perché io non ho letto pareri negativi forse avrò letto due commenti negativi nella totalità del mare di entusiasmo vi rinnovo la raccomandazione a esprimere civilmente il vostro parere perché non mi farò problemi a falciarvi in caso contrario bene adesso passo la palla a voi fatemi sapere se avete visto questa puntata se vi è piaciuta non vi è piaciuta sicuramente vi è piaciuta immagino ma soprattutto vorrei capire se voi avete delle risposte per i quesiti che ho posto se avete delle spiegazioni o se la spiegazione come sempre è ma ti fai troppe domande scusate ragazzi se non vedo le serie col pilota automatico purtroppo non ci riesco soprattutto serie che hanno del potenziale perché se sto vedendo la serie teen trash del momento cioè elite la vedo con il pilota automatico non me ne frega niente delle cose trash che succedono anzi sono quelle che aspetto qui il trash non lo vorrei in teoria va bene mi taccio quindi passo la palla a voi fatemi sapere cosa ne pensate per oggi è tutto noi ci vediamo si fa per dire al prossimo video e ciao